Ciao Youtube, oggi abbiamo acceso la caldaia di Giorgio, sei contento? Molto contento Abbiamo ancora acceso la caldaia di Giorgio, però siamo acceso qui all'interno Andiamo a vedere un po' la fiamma, abbiamo già regolato l'aria di secondaria La caldaia sta lavorando, 60 gradi Qui c'è il canale da fumo, gruppo di rilancio della mostratrice climatica e foffer da 1250 Andiamo a vedere un po' dentro, non si potrebbe, però non lo diciamo con nessuno Buon caso a tutti, ciao ciao